Ma cerco un aiuto per avere la casa di riposo e tutto quanto, no? Ma non c'è bisogno qualcuno, devi andare a una casa di riposo, vai e basta. C'è lo stipendio, gli dai lo stipendio. Ma hanno 1200 euro al mese, 1500 euro. Ma ci stanno pure le case di riposo che pigliano solo lo stipendio tuo. Oh, allora trovatemela voi. La casa di riposo sta con le ferro, una se la vuoi, vai dalle monache con le ferro e ci sta la casa. Sì, come intendo? Della penzella che c'hai e basta. Ah, sì? Però i figli tuoi ti dovrebbero aiutare. Ma una sta a Como, un'altra sta a Angona, un'altra sta a Roma, un'altra sta a Magna, non deve seguire nessuno. E che significa questo? L'ho fatto studiare, l'ho fatto grande e mi hanno abbandonato come un cane. E quindi tu ti senti abbandonato dalla famiglia? Mi sono abbandonato perché qua mi sono bloccato perché non mi avevo più mai fatto mangiare. Perché io l'ho fatto grande, l'ho fatto studiare e ne sono messo in fila. Ma non è normale questo, no? Io, siccome che sono 60 anni e mi sono sposato con i miei mogli, mi sono operato all'ernia, ho gli sforzi che ho fatti, zappalatera, muratore, tutto quanto. Dopo mi muoio, a una rita all'ospedale, ho detto guarda non è il ballo che io mi sono operato, sono le arrabbiature e gli sforzi. E dopo gli ho detto, se tu riti sulle schierasse miei io faccio il divorzio. E è successo così, e c'è prima la taccina alla casa. Anagni. Anagni. Anagni.